Nella Salangioi del Palazzo della Provincia, ieri pomeriggio, i riformatori Sardi e Forza Paris hanno presentato il simbolo che suggella l'accordo politico programmatico. L'intesa tra le due forze politiche è stata definita il mese scorso con l'obiettivo di rafforzare e portare avanti la battaglia per il reinserimento del principio di insularità in Costituzione e l'avvertenza sulle accise, temi caldi per lo sviluppo socio-economico della nostra isola, raccontano. Inoltre è stato presentato il nuovo simbolo, unitario, i riformatori Sardi e Forza Paris per le comunali di Sassere e Alghero. Bene, sicuramente questo sodalizio è ricco di significati e di simboli, significati perché i riformatori Sardi da sempre sono presenti con battaglie caratterizzanti fortemente, il nostro ruolo in Sardegna è un ruolo squisitamente regionale, con l'insularità, le accise eccetera, però allo stesso tempo ci uniamo con Forza Paris dove accanto a questo motto sono questi due colori della loro bandiera, il rosso e il bianco, che ci richiamano un grande esempio di sardità come appunto la Brigata Sassari. Qua noi ci caliamo perfettamente nella realtà sassarese, essendo partiti che sono molto attenti alle problematiche locali, noi non possiamo che sposare pienamente quelle che sono le esigenze della nostra città. E in questo noi siamo uniti, naturalmente nel portare avanti tutte quelle che sono le rivendicazioni e le proposte per dare una guida forte e sicura alla nostra città. Una guida, vorrei sottolinearlo, che non deve pensare a governi amici, deve solo pensare alla città e in qualche modo far ripartire questa nostra Sassari.